Il codice di comportamento, nonostante il nome così ampio codice, è in realtà una norma importante ma regolamentare che riguarda i comportamenti dei dipendenti pubblici, prevedendo non soltanto ciò che deve essere il comportamento in positivo, quindi tutti gli atti che egli deve svolgere nei rapporti con il pubblico, nei rapporti con gli altri colleghi, ma vi sono, e questo è forse l'aspetto più interessante, una serie di divieti che sono previsti nel codice di comportamento e che sono stati anche analizzati e tradotti in casi emblematici dalla giurisprudenza che si è dovuta occupare sia per problemi di diritto penale, sia per problemi di sanzioni disciplinari, di questi aspetti. Insomma, il comportamento del dipendente pubblico dovrebbe essere un comportamento specchiato, cioè senza nessuna ombra, e non sempre è così. E il codice di comportamento, per esempio, vieta al dipendente di chiedere o sollecitare per sé o per altri regali o altre utilità, salvo, dice la norma, quelli di uso di modico valore. Cosa si intende per modico valore? Qui è risposto la giurisprudenza, stabilendo, sia pure in modo indicativo, che per modico valore si intende il valore che non superi 150 euro. Siamo sempre sulla base di cose indicative, però bisogna stare molto attenti su questi aspetti, perché, ad esempio, si è discusso se un regalo che certamente è di modico valore, quale può essere un panettone o una scatola di cioccolatini, comporti la violazione dei doveri del pubblico dipendente. A rigore si direbbe no, perché non abbiamo superato il limite, però la Cassazione, la Cassazione penale nel 2017, ha detto se il dono è correlato ad una definizione di una pratica amministrativa, costituisce violazione.